Ciao amici! Secondo le ricerche scientifiche per aumentare la massa magra e dimagrire servono due cose. Avere un metabolismo perfetto per natura e fare la modella? Cosa c'entra scusa? Stavo parlando di sport e alimentazione. Se lo sport brucia le calorie, la dieta fornisce nutrienti che modellano il corpo. I giusti nutrienti ci danno un corpo tonico, snello, atletico, naturalmente magro e muscoloso. Altri cibi invece ci fanno diventare gonfi, flaccidi, pesanti. Oggi vediamo i 7 migliori cibi sani per dimagrire e aumentare la massa magra, adatti a tutti, anche vegani, vegetariani e celiaci. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace tanti nuovi video. 1. Frullati proteici. La soluzione migliore è farci da soli i frullatoni proteici in casa. Spesso quelli acquistati in negozio sono troppo ricchi di zucchero ma poveri di nutrienti. Mentre se li facciamo in casa siamo sicuri di mettere solo prodotti sani. Mettere nel frullatore due tazze di latte vegetale, una banana, un misurino di proteine vegane al cioccolato, un cucchiaino di burro di arachidi o mezzo avocado. Frullare ed ecco pronto! Ottimo davvero! Per i miei frullatoni scelgo Shape Shake della Foodspring che li rende cremosi e proteici. In descrizione c'è il link al prodotto e il mio codice sconto per risparmiare il 15%. 2. Avocado. L'avocado è un superfood ricco di acidi grassi, proteine, minerali e vitamine ma ha poche calorie. Per questo è consigliato per aumentare la massa magra e la massa muscolare. Si può usare nelle insalate ma anche nei panini o da solo condito con olio, sale e limone. 3. Tofu. Il tofu non può mancare nella dieta vegetariana o vegana o come proteine magre light. È un alimento ottimo anche per incrementare la massa muscolare perché è ricco di proteine della soia, una delle migliori fonti vegetali con leucina e calcio. Ma il tofu non è un cibo proteico serio? Per la scienza sì. Secondo la rivista Metabolism le proteine della soia sono tra le migliori. Leggi lo studio, c'è il link in descrizione. 4. Riso integrale. Ancora più gustoso del riso bianco, quello integrale è perfetto per aumentare la massa magra. Contiene fibre, vitamine, carboidrati e le giuste calorie con un basso indice di grassi. Per rimanere leggeri abbinare riso e verdure. Invece chi vuole aumentare la massa può aggiungere proteine magre. Prima di vedere i prossimi cibi iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi per sostenere il mio lavoro con un piccolo contributo mensile e per accedere a contenuti esclusivi ogni mese. 5. Lenticchie. Esistono tre tipi di lenticchie, rosse, verdi e marroni, tutte buonissime e amiche della linea. Le lenticchie stabilizzano gli zuccheri nel sangue e forniscono proteine ed energia a lungo termine. Da abbinare a riso integrale, zuppe di verdure, insalate fresche. 6. Frutta secca. La frutta secca va usata come spuntino la mattina o il pomeriggio. Fornisce le giuste calorie, proteine e grassi sani, sia per dimagrire che per aumentare la massa magra. Si possono consumare anche le creme spalmabili a base di mandorla, nocciola, burro di arachidi. 7. Cioccolato fondente. Ecco, io scelgo questo. Buone notizie per tutti noi golosi di cioccolato. Il cioccolato fondente, almeno al 70%, aiuta a mantenersi in forma e tonici grazie agli antiossidanti, da mangiare o aggiungere in polvere assolutamente non zuccherata, ai latti vegetali con proteine o ai frullati di frutta. Gli antiossidanti stimolano il metabolismo, così si perde massa grassa mentre si nutre la massa magra. Ora condividete questo video e nei commenti scrivetemi il vostro cibo preferito. Mangia sano e vivi meglio!